Quale sarà il nuovo volto degli IRCS? Quali buoni modelli importare alle reti oncologiche delle altre regioni? Il piano di riordino ospedaliero ridisegnerà l'assistenza ai malati di tumori in Puglia. Il Giovanni Paolo II di Bari diventerà il polo oncologico del capoluogo, col trasferimento dell'oncologia del di Venere, della chirurgia toracica del San Paolo e dell'anatomia patologica della ASLBA. Il Smolscati di Taranto diverrà invece riferimento per l'area del Tarantino con un occhio particolare alle patologie causate dall'inquinamento. In generale l'impostazione pensata dalla squadra di Emiliano punterà sulla concentrazione in hub centrali delle attività specializzate. In particolare la chirurgia in ambito oncologico sarà concentrata in 11 strutture, lasciando ai cosiddetti SPOC periferici gli altri servizi assistenziali, per esempio la somministrazione dei farmaci chemioterapici. Ma nel confronto con le altre regioni virtuose come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, vanno considerati anche altri aspetti eterogeni, come per esempio la peggiore viabilità che di fatto isolerebbe alcuni comuni dell'entroterra. Il cambio di rotta è necessario però e secondo il neodirettore del Dipartimento regionale per la Saluta Giancarlo Ruscitti, migliorerà notevolmente l'assistenza ai malati, ottimizzando le risorse a disposizione. L'Istituto di Bari deve diventare il luogo in cui l'oncologia pugliese, sia medica che chirurgica, si confronta, dibatte e da cui scaturiscono le indicazioni e le regole per curare i pugliesi in maniera uniforme ed efficiente nella nostra regione.